Sarà una società milanese a gestire la riflessione scolastica del comune di Minturro sino al prossimo 31 dicembre. Il servizio di sicuro sarà prorogato sino all'estate in attesa che venga poi espletata una nuova gara d'appalto che avrà una durata di tre anni. Ad annunciarlo è il commissario prefettizio del comune Bruno Strati dopo la rivolta di molte famiglie che a settembre avevano puntato il dito contro l'operato dello stesso comune e delle precedenti amministrazioni comunali accusate di non aver espletato la scorsa primavera il nuovo bando di gara per l'affidamento esterno del servizio di riflessione scolastica che sinora aveva avuto una gestione comunale. Il pensionamento della quale addetta, una dipendente comunale, aveva impedito la partenza del servizio. Le polemiche poi avevano fatto il resto con i dirigenti scolastici che avevano assunto, scelto diverse tra loro, circa l'opportunità per i bambini di pranzare o meno a scuola. Noi abbiamo indetto questo appalto, abbiamo fatto questa procedura di gara perché ci eravamo trovati scoperti. Cioè vale a dire avevamo soltanto un servizio che facevamo da parte dei dipendenti del comune ma questo servizio poi appunto perché c'è stata l'assenza della cuoca per motivi suoi e quindi di conseguenza ci siamo dovuti determinare verso una forma di appalto, abbiamo esternalizzato e abbiamo individuato dopo appunto una procedura di gara, una ditta che adesso ha cominciato a svolgere questo tipo di lavoro, credo anche con buoni risultati così come mi vengono registrati. Poi però stiamo lavorando per un appalto diciamo più grande, più lungo che almeno avrà una durata triennale stiamo lavorando in modo tale che entro la fine dell'anno scolastico potremo avere e quindi io potrò lasciare alla nuova amministrazione un appalto e quindi una ditta seria che può appunto svolgere questa sua attività. La decisione del commissario prefettizio di esternalizzare il servizio di riflessione ha dovuto fare i conti con l'adeguamento della cucina di Marina di Minturno imposto sia dai NAS che dall'AS di Latina. C'erano state le prescrizioni che nel mese di aprile scorso già in AS l'AS l'avevano rilevato e di conseguenza abbiamo dovuto aprire con tutto il centro di cottura messo a norma e di conseguenza abbiamo dovuto apportare queste modifiche che sono iniziate con lievi modifiche che poi però sono andate a crescere e hanno comportato anche una ulteriore spesa per l'ente.